la guerra vedevamo solo un gran massacro testimonianza di andrea marino detto ciulin nato a vinadio frazione lentre classe 1885 contadino mi sono allevato non c'era nemmeno pane per uno mio padre ci ha allevati 9 4 figlie e 5 figli avevamo un po di prati di montagna una vacca e un vitello ci siamo allevati a erbe selvagge specie di spinaci li facevamo cuocere con un po di latte e li mangiavamo con la polenta un po di patate pane poco non ce n'era il pane d'estate lo facevamo ogni mese e a settembre ottobre facevamo le cialde 6 7 fornate a maggio mangiavamo ancora quel pane duro lo tagliavamo con l'attrezzo tagliapane pane di segala non parliamo di pane di grano lentre faceva tre gruppi di case dei jan de bidun di ciulin 60 abitanti solo all'entre 101 persona i tre gruppi di case assieme a scuola all'entre erano sempre 34 36 gli scolari il maestro era messo dal municipio i padri pagavano io scuole ne ho fatto niente i genitori non mi mandavano cosa farci ho imparato da soldato a fare la mia firma eh c'era miseria allora più o meno eravamo tutti allo stesso piano ecco perché sono scappati a marsiglia da ogni parte in francia partivano da ragazzini andavano a governare a fare i pastori subito dietro il colle della maddalena ragazzi e ragazze andavano in là in primavera in aprile maggio tornavano in qua prima dell'inverno con 20 25 lire così era quando ero giovane gli uomini sono andati tutti in francia andavano a lyuk nel bar nelle miniere oppure a lavorare in campagna là si guadagnava qualcosa qui c'era niente così le famiglie si disfacevano perché si sposavano là anch'io a 16 anni sono andato nel bar a piedi da solo qui a vinadio quelli della nostra qualità di campagna la maggioranza viveva come noi in america ne sono andati pochi tutti verso la francia ma queste nostre famiglie non si sono mica perdute sono lì in francia padre e madre ci facevano filare i diritti e noi ubbidienti se no cinghia cinghia nel mangiare in francia andavamo volentieri ci trovavamo meglio anche nel mangiare in francia ho lavorato a 20 soldi al giorno in campagna col picco a fare gli scassi nelle vigne nel bar chi comandava nella mia famiglia quando toccava al padre comandava il padre quando toccava la madre comandava la madre il figlio più vecchio aveva più forza e comandava i fratelli più piccoli con un paio di zoccoli nei piedi andavamo avanti e gli uomini portavano i chambirun la suola era fatta con il cuoio degli imballaggi dell'america tutto il contorno della suola veniva bucato nei buchi passavano le corde che tenevano fermi attorno al piede gli stracci di lana vestiti come potevamo con i pantaloni di trap di lana filata in casa e poi portata a tessere a bagni di vinadio quasi tutti non portavano mutande io ero sempre pelato qui perché il trap era ruido e grattava niente calze le donne filavano anche la canapa per la tela di casa per casa avevamo un fienile una cantina una grotta che faceva la cucina più che abitavamo era nella stalla avvie si andava da uno e dall'altro ma quando il padre era severo li teneva tutti in casa i nostri divertimenti di allora con la slitta a scivolare d'inverno le domeniche gli uomini scendevano in paese erano poche le ubriacature le sbronze perché costavano ho tirato il numero a vinadio sul 140 ho tirato il 114 e ho fatto due anni di soldato per forza andare volentieri da soldato era così poi è venuta dalla guerra ero sposato con due figli ho dovuto lasciare la famiglia moglie compadre e madre e i bambini e partire la gioventù non voleva mica andare in guerra anche qui si sbrogliavano per non passare abili e poi cosa fare più che partire la guerra vedevamo solo un gran massacro andare a rubare la terra uno e all'altro la guerra ce l'hanno fatta fare solo per far ammazzare la gente o povero me noi abbiamo fatto quattro province e poi gli altri ce le hanno mangiate quelli che hanno poi perduto la guerra del 1940 io sono rimasto ferito a tolmino a una gamba quattro anni mi sono tenuto quella scheggia nella gamba mio fratello onore è rimasto ferito da una bomba a mano agli occhi era negli alpini è tornato cieco completo gli hanno poi dato una piccola pensione l'altro mio fratello pietro era infanteria è rimasto prigioniero a caporetto nella ritirata io ero con il battaglione val cenischia del quarto alpini al momento di caporetto ero a serpenizza siamo saliti sul monte stol poi scesi a nimis noi sul serpenizza eravamo trincerati che se non c'era il tradimento giammai ci vincevano ma quella cosa lì la ritirata l'hanno fatta apposta ci hanno fatti scendere a nimis lì ho visto passare il re con la macchina e via scappava 40 giorni avanti e indietro soldati popolazione tutti mischiati cose dell'altro mondo abbiamo passato il tagliamento per tempo poi hanno fatto saltare il ponte con bestie uomini donne e bambini di tutto cose dell'altro mondo le guerre le fanno solo per distruggere dopo caporetto l'impressione era che fosse tutto finito a bassano ci hanno riordinati e poi mandati sul grappa sul salarolo prima di natale e appena montati lassù siamo andati all'attacco 400 soldati e sette ufficiali e ritornati in 13 finita la guerra ancora grazie poterci ritirare a casa delle canzoni ce ne hanno dette promesse tante e poi niente aspetto ancora adesso la polizza del cavalierato di vittorio veneto qui c'è solo un maresciallo che l'ha ricevuta finita la guerra ho ripreso la mia vita di prima pietro congedato è rimasto qui un mese poi è subito scappato in francia qui poi è venuto il fascio ero mica d'accordo con il fascio perché vedevo che l'affare non andava bene essere maltrattati dai pelandroni dai fannulloni nel 1922 venivano con i manganelli quelli della prima ora e andavano a prendere a casa quelli che non si piegavano e gli davano l'olio di ricino qui c'era biscara e altri casimiro era mio coscritto era di prato lungo era contrario al fascio i fascisti di qui sono andati a cercarlo è scappato da un tetto all'altro ha preso su e via in francia i fascisti volevano ammazzarlo la più parte della gente non era per i fascisti perché mandian perché non ragionavano picchiavano solo se il fascismo ci ha portato dei vantaggi niente niente per via del fascismo ne sono scappati tanti uomini in francia senza passaporto quando il fascismo ha deciso di bloccare quelli che andavano a lavorare in francia ha ottenuto questo risultato che tanti sono andati lo stesso in francia è perché era tutta gente che aveva fatto la guerra e non aveva paura di niente e non sono mai più ritornati poi viene la seconda guerra mondiale bisogna prenderla la guerra contro la francia i fratelli di qua e di là li fanno combattere uno contro l'altro qui era zona di operazioni siamo dovuti scappare a bergemoletto con le bestie tutto di corsa il 9 giugno poi è venuto un po di tutto con i tedeschi con i fascisti la guerra è la guerra qui c'erano anche i partigiani anche quelli lì no no oltre che fare del bene facevano anche del male facevano bruciare le nostre case l'entre l'hanno bruciato noi rintanati in un intercapedine tra due case mentre i tedeschi bruciavano hanno bruciato all'entre a castellar ai pigaglio nella primavera del 1944 e la battaglia del natale 1943 qui bastianotte era ferito era un contadino di neraisa l'ho preso sull'asino e l'ho portato su in salvo e tedeschi da ogni parte con i partigiani non potevamo discutere perché erano supposizioni contrarie alle nostre ecco fatto noi eravamo ancorati fermi ancorate alle case e loro cercavano di battagliare attiravano la tempesta su di noi mi hanno preso una bella manza me l'hanno pagata un po meno dell'ammasso e io a dire a victor e al comandante lasciatemi quella manza ho due vitellini uno me lo pagate e l'altro ve lo regalo e loro noi abbiamo una popolazione da far mangiare non guardiamo le vostre storie noi eravamo gente saggia o meglio con idea solida la pensavamo così la nostra montagna oggi i giovani scappano tutti qui restiamo noi vecchi e dobbiamo lavorare per vivere i giovani sono tutti in fabbrica ma se il lavoro cessa non so cosa faranno a forza di fare macchine ste fabbriche la pensione contadina o per dio ci aiuta bene soccorre tante famiglie con 18.000 lire viviamo ci fa pena vedere tanta terra abbandonata qui ci saranno 4.000 e 5.000 giornate incolte da più di 20 anni tanti proprietari sono all'estero io direi di fare un blocco di tutta la terra abbandonata e fare una montagna il comune la affitti ai pastori da farla rendere oppure la forestale prenda tutte questa terra e faccia delle piantagioni di larici di abeti qui la proprietà la terra è come un foglio a quadretti un pezzetto di qua un pezzetto di là come tanti francobulli tra noi vecchi queste cose ce le diciamo ma in comune non ne parlano mai di questi problemi io di politica non mi interesso vado a votare sono anche stato assessore nel comune come dipendente ma niente politica che cosa era il prete per noi nel passato c'era donotta sa cosa faceva il primo dell'anno qui a vinadio allora c'era più di 4.000 persone la gente andava a messa poi sostava tutta sulla piazza della chiesa c'erano tanti bambini donotta aveva fatto bollire due pentoloni di castagne il curato apriva due finestre della parrocchia poi lui e l'arciprete buttavano giù le castagne aveste visto sta gente come uno sciame di vespe dopo donotta è venuto don 40 quello era un testone duro poi don renaudo poi don marchisio erano personaggi importanti per confessare le donne per convincerle mai mettere quella materia fuori da quella porta dicevano le donne sposate la contavano sempre così loro erano per le famiglie numerose la gente allora teneva tanto per il prete adesso tanto di meno per le donne quello che diceva il prete era sacro era vangelo io ho mai ascoltato i preti la luna ma che un'altra storia lì balle con quei miliardi organizzassero un po meglio la vita qui quando i generi e le figlie e una nipote che studia a parigi vengono a trovarmi vogliono farmi credere che l'uomo va sulla luna ma va un po coricarti per dire smettila di prendermi in giro togliti di mezzo di coloro non ci credo ma torniamo a parlare della nostra montagna se andasse a castellar tutta terra abbandonata e una volta c'erano 16 famiglie e non c'è più nessuno ripugna molti sono in francia se ne battono le chiappe per dire che a loro il problema non interessa più sì la vita adesso è cambiata in meglio io ricordo ancora vinadio con tutti i tetti di ardesia o di paglia adesso i tetti sono quasi tutti di lamiere ma se le fabbriche si fermano a forza di fare macchine che cosa succederà io lavoro ancora oggi come una volta 20 ore su 24 lavoro la campagna ho tre bacche alla sera torno stanco e mi attacco alla coda dell'asino arrivo a casa e faccio piccole cose piccoli lavori ancora io ho sempre da fare ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti